In realtà non cerco qualcosa in particolare, mi colpisce molto il titolo in genere, quindi magari non sono così appassionata di letteratura e non mi piace leggere la trama di un libro prima di comprarlo, quindi semplicemente dal titolo mi faccio ispirare. Non ho un genere nemmeno preferito, vado dal thriller al romanzo, anche filosofia, insomma un po' di tutto. Internet e libri, beh è un buon mezzo per promuovere un libro, ormai penso sia il modo più diretto per promuovere, anzi favorire la letteratura. Apprezzo molto quando fanno le campagne pubblicitarie per leggere di più, è una cosa che manca.